bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabry io birillo oggi andremo a farvi vedere come la taverna dello svapo fa i liquidi vai birillo facci vedere oggi andremo a preparare un liquido della big month cioccoella che sarebbe una crema di nocciole tipo similare a della della scatolina si presenta così al suo interno c'è l'essenza 10 ml di scienza una boccetta per poi andare a trippare e portatela fuori e di fare un drip e riempire e abbiamo fatto così abbiamo preparato con la base a voglia abbiamo fatto 90 ml a 0 lipotina base a 0 e 10 ml di essenza abbiamo messo dentro abbiamo lasciato qualche giorno un pochino a macerare ogni tanto scattivandolo e ora andiamo a fare la prova di svapo e assaggiare come è avvenuto il liquido preparato da me lo metto al suo interno della sua boccetta ora andiamo a sentire il profumo la crema di nocciola la profumo non mi sembra buono allora lo butto dentro questo qui ci metto al suo tappino sono le boccite di spiagione con la che si apre sicura si chiude va al gabrik drippo però lo aveva detto a trippare anch'io buono si avvicina molto al mio hotel molto nocciola si è la 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 nocciola però è buono che quanto gli dai a questo io ci do un 7 si è riuscito bene è riuscito bene te lo puoi fare da solo a casa non è difficile da fare perché basta avere una boccia graduata mettere 90 ml di base di base neutra e rutarci dentro la sua essenza lasciare un pochino qualche giorno che va a macerazione che prende bene il sapore la sera magari ci dai un'agitata per bene dopo tre quattro giorni è pronto o dicono sempre di più sette giorni e quindici giorni vabbè sempre per me più rimane lì più prende il sapore basta non passare cinque o sei mesi non lo so come potrebbe venire però comunque come liquido ne vale le volte da fumare tutto il giorno tranquillo non smaga perché non viene troppo forte da 10 dalla taberna dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo un canale su instagram e su facebook la taberna dello svapo se ci volete seguire siamo contenti di accogliervi dalla taberna dello svapo è tutto un bacio grazie a tutti grazie a tutti